Siamo al 55esimo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia con Angelo Raveli, ordinario di pediatria all'Università di Genova, che è anche segretario del gruppo di studio in reumatologia pediatrica. In questo congresso presenterà un progetto che riguarda la transizione dal reumatologo dell'età pediatrica al reumatologo degli adulti. Ci puoi spiegare di cosa si tratta? Bene, intanto grazie. La transizione è un processo molto importante perché riguarda il passaggio in cura del paziente pediatrico con malattia cronica in generale e in questo caso con malattia cronica reumatologica in particolare, dallo specialista pediatra allo specialista dell'adulto e questo avviene in genere quando il ragazzino diventa adolescente e si avvicina all'età del giovane adulto. È chiaro che quando il paziente passa dall'età pediatra all'età dell'adulto cambiano molte cose, cambiano molti problemi, soprattutto sotto l'aspetto psicosociale ma anche per quanto riguarda la gestione della malattia. Quindi è chiaro che deve essere poi seguito da uno specialista che abbia dimestichezza con i problemi dell'età adulta. Però è un processo molto importante perché esiste il rischio che il ragazzino, il tardo adolescente, il giovane adulto si perda per strada e nel passaggio dalla fase della cura pediatrica, che è una cura molto affettiva, molto amorevole, multispecialistica, ha un ambulatorio completamente diverso come quello del medico o dell'adulto. Esiste il rischio, come dicevo, che il ragazzino non venga più seguito come si deve, addirittura rifiuti la cura e non si presenti più all'assistenza medica e questo può naturalmente comportare il rischio che la malattia vada incontro a un deterioramento e quindi si accumuli un danno legato a un processo infiammatorio non controllato. D'altra parte esistono studi a livello europeo, ma non solo, diciamo internazionali, che hanno dimostrato chiaramente che una percentuale molto alta di ragazzini, giovani adulti che smettono la cura in ambiente pediatrico non vengono più seguiti in maniera corretta perché non vanno più dal medico o non assumono più le terapie in maniera continuativa e corretta come succedeva in passato. E questi studi hanno documentato un peggioramento dell'evoluzione nel tempo, scusate, e anche del danno d'organo in questi pazienti che non hanno seguito bene correttamente il processo di transizione. E quindi questo progetto in cosa consiste? Quindi, diciamo, la transizione è un problema che è gestito da moltissimo tempo nei paesi anglosassoni, in particolare nel Nord America e nel Canada, dove sono stati stabiliti ancora moltissimi anni fa degli ambulatori di transizione molto ben strutturati, esistono protocolli condivisi, quindi un meccanismo oliato e standardizzato che fa sì che questo processo di transizione avvenga in maniera soddisfacente, soprattutto per il ragazzino e per la famiglia. In Europa e in Italia in particolare siamo molto indietro da questo punto di vista, anche in Italia se ne è parlato molto negli ultimi anni, ma non sono mai state messe in atto iniziative concrete che potessero arrivare a creare effettivamente questa rete di transizione. Devo dire che tutto questo è migliorato nell'arco degli ultimi anni con due interventi, due fenomeni particolari. Uno è stata la pubblicazione delle raccomandazioni per la transizione a livello europeo da parte della Società Europea di Reumatologia Pediatrica, che è la PRESS, e l'EULAR, che è la Società Scientifica della Reumatologia dell'Adulto. Queste due società assieme hanno radunato un gruppo di esperti che si è a discorso e ha raggiunto il consenso e ha stilato 12 raccomandazioni che dovrebbero guidare l'implementazione del processo di transizione in tutti i centri di reumatologia dell'adulto e pediatrica a livello europeo. In Italia, proprio recentemente, è stato creato un gruppo misto di reumatologi dell'adulto e di reumatologi pediatri che si è occupato di porre le basi per attivare un processo di transizione per i bambini, per i ragazzini, i giovani e adulti con malattie reumatiche e con malattie diopatiche giovanili in particolare a livello italiano. Questo progetto è stato, ed è supportato da un'azienda farmaceutica che è l'AV, ed è stato denominato hand-to-hand. È stato un processo molto serio che si è sviluppato attraverso passi successivi che sostanzialmente hanno portato in un primo tempo a effettuare un sondaggio di opinione tra reumatologi dell'adulto e del bambino sullo stato della transizione attuale a livello nazionale. Una fotografia di com'è la geografia della transizione in questo momento in Italia, attraverso, come dicevo, un sondaggio. Successivamente questo gruppo si è radunato e ha esaminato la fattibilità, l'applicabilità, per meglio dire, delle raccomandazioni dell'Eular Pless, quindi europee, nella realtà italiana. Quindi un progetto a livello nazionale. A livello nazionale, certo, che è stato supportato, come dicevo, dall'AV, ma è stato anche, diciamo, fatto proprio sia dalla SIR, Società Italiana di Reumatologia dell'Adulto, che anche dal gruppo italiano di reumatologia della Società Italiana di Pediatria, che io, come lei diceva, in questo momento guido. E appunto, nella seconda fase di questo progetto, si è esaminata l'applicabilità di queste raccomandazioni nella nostra realtà italiana, nel sistema sanitario nazionale. Ci è visto che esistevano molte difficoltà, perché queste raccomandazioni certamente riflettono il mondo reale, ideale, per meglio dire. Poi, quando sono calate nel mondo reale, certamente non è così facile implementarle, perché ci sono tutta una serie di ostacoli che non abbiamo certo il tempo di elencare. Però, per, in qualche modo, facilitare l'applicabilità di queste raccomandazioni nella nostra realtà italiana, questo gruppo, dicevo, misto, congiunto, specialisti ad adulto e bambino, ha formulato una serie di, diciamo, di enunciazioni aggiuntive per ciascuna delle raccomandazioni delle raccomandazioni specifiche di questo progetto. La realtà italiana le ha discusse, le ha votate, ha raggiunto il consenso, le ha riformulate, alla fine si è raggiunto un consenso su una lunga serie, non ricordo il numero, ma sono due o tre decine, di formulazioni aggiuntive che si associano alle 12 raccomandazioni EULAR, credo fossero 27. Però il lavoro, il manoscritto è stato scritto e verrà sottomesso la rivista, credo, già la settimana prossima, che verrà pubblicato nei prossimi mesi e con queste, diciamo, queste formulazioni aggiuntive l'idea è che le raccomandazioni EULAR possono essere meglio applicate nella realtà italiana. Quindi il messaggio è che esistono delle, diciamo, linee guida molto precise su questa particolare fase di assistenza al paziente. Esatto. Oggi possiamo dire che grazie allo sforzo hand-to-hand abbiamo, diciamo, certamente diffuso la conoscenza delle raccomandazioni EULAR Press, ma le abbiamo naturalmente adattate, grazie a queste formulazioni aggiuntive, la realtà italiana, facilitando l'applicabilità. Quindi abbiamo, diciamo, la cornice, lo strumento che ci può guidare nella implementazione di questo processo. Quello che manca e che deve essere l'obiettivo dei prossimi mesi, non dico anni, nei prossimi mesi, è la creazione della rete, cioè la creazione di un rapporto tra specialisti adulti e specialisti del bambino che faciliti, anche in maniera pratica, con dei contatti diretti, diciamo, su consigli preferenziali, il passaggio in cura del paziente pediatrico, lo specialista dell'adulto, nel territorio, naturalmente, di competenza. Questo è l'elemento fondamentale, diciamo, la cosa pragmatica che va realizzata nella rete di rapporti che faciliti, proprio fisicamente, gli scambi tra specialisti e specialisti del bambino e il passaggio in cura. Poi, naturalmente, tutto questo deve essere accompagnato dalla creazione di tutti gli strumenti che abbiamo elencato in questi profili e, naturalmente, non deve mancare la sensibilizzazione le pubbliche autorità, che in questo momento non sono assolutamente coinvolte in questo processo perché, come tutti gli sforzi su larga scala, sono necessari anche, certamente, degli appoggi amministrativi da parte della direzione generale, Ministero, tutto quello che si vuole, ma ci vogliono anche dei supporti finanziari perché altrimenti diventa impossibile, molto difficile realizzare questo obiettivo.